Castro, buon lavoro in mezzo a due, Gobbi vicino Etemai, palla di ritorno per Castro, non crossa, va da Etemai arriva, ora pallone dentro, non la tocca nessuno, è avanti il Chievo, ha segnato Etemai, appena entrato, sorpasso Chievo! Era un cross per Inglese, Viviano è stato ingannato dal movimento di Inglese, Etemai, segna un gol importantissimo, va a vederla Orsato, è arrivato l'ok, sorpasso Chievo!